L'Università d'Annunzio di Chieti Pescara protagonista nella formazione di studenti e docenti del corso di laurea in Ingegneria Geologica in El Salvador, nell'ambito del progetto internazionale CASTES, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. L'AICS ha scelto l'Ateneo Abruzzese, l'Università di Palermo che è capofila del progetto, con l'obiettivo di creare figure indispensabili in un territorio che è regolarmente teatro di catastrofi naturali come terremoti dovuti alla natura vulcanica del paese e da uragani. A coordinare l'equip dell'Ateneo d'Annunzio è il professore Mario Rainone, docente di Geologia Applicata nel corso di studi in Scienze della Terra. La prima volta che l'Agenzia Italiana di Cooperazione e lo Sviluppo affida a due università, la nostra e l'Università di Palermo, la costruzione di un corso di studi. Fino adesso la cooperazione ha sempre svolto la sua attività in assistenza tecnica. Il corso è partito nel 2020 e grazie alla teledidattica, nonostante la pandemia da Covid-19, le lezioni si sono tenute regolarmente e la prima annualità sta per concludersi. Questo progetto nasce da un'iniziativa del dottor Marco Falcone, che è un abruzzese, che qualche anno fa era il direttore di AICS Centro America. Quindi da un confronto con lui è nata questa idea di costruire un percorso in ingegneria geologica in Salvador, che non lo aveva, pur avendo tanti problemi di natura geologica. Noi partecipiamo soprattutto con le nostre competenze di geologia applicata e di geomorfologia applicata, che sono uno degli assi portanti del nostro corso di studio qui nell'Annunzio.